iniziamo col nodino e con 4 catenelle 1, 2, 3, 4 nella prima catenella facciamo 3 maglie altissime 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 e siamo arrivati a 3 maglie altissime 3 maglie alte sempre all'interno della prima catenella se riesco a entrare l'ho fatta un po' stretta 1, 2, 3, 4 una catenella una catenella e una maglia altissima una catenella e 3 maglie alte 1, 2, 3 3 di nuovo 3 maglie altissime 1 2 3 e arrivati a questo punto 3 catenelle 1 2 3 che chiudiamo sempre nel centro con una maglia bassissima tagliamo il filo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.